Cari pellegrini, in questi giorni i media cattolici, alcuni media cattolici, stanno parlando della conversione di un attore franco-algerino, Madi Diadi, il quale si è convertito dall'Islam, passando però attraverso il protestantesimo, grazie all'Eucaristia, cioè riflettendo sulla grandezza e sulla bellezza dell'Eucaristia e pregando dinanzi al Santissimo Sacramento. Allora alcune riflessioni nel merito, visto che questo attore poi proviene dall'islamismo, nasce in una famiglia islamica e ha coltivato nella parte iniziale della sua vita la pratica religiosa all'Islam. C'è un episodio molto edificante che ci viene narrato in un libretto molto utile che si chiama Gesù eucaristico amore di padre Stefano Manelli. L'episodio è questo. Con ogni probabilità siamo agli inizi del Novecento nella città francese di Marsiglia. Teniamo presente che in quel tempo, che erano tempi molto più seri, quando un sacerdote portava il viatico ad un ammalato, ad un moribondo, bene lo faceva portandosi alcuni chierichetti che avevano le candele accese, poi c'era il baldacchino e quindi quando passava per le strade la gente sapeva benissimo che stava passando il Santissimo Sacramento. Ebbene, l'episodio narra di due persone, un cattolico, un militare cattolico, che sta chiacchierando con un amico islamico. A un certo punto il militare cattolico vede in lontananza che si sta avvicinando un sacerdote che sta portando appunto il Santissimo Sacramento con ogni probabilità di un ammalato. Non appena arriva nei pressi, cioè si avvicina a questo sacerdote, allora il militare cattolico, facendo con la mano di sospendere la conversazione al suo amico islamico, attende che passa il sacerdote e quando passa il militare cattolico si inginocchia, così come fanno anche altri lì presenti, e si segna devotamente. Dopo che è passato il sacerdote l'amico islamico dice, senti io ti devo fare una domanda, ma come fate voi cattolici a credere che in un misero pezzetto di pane, di acqua e farina ci sia il Signore dell'universo intero, cioè colui che nemmeno l'universo può contenere. Ebbene il militare cattolico risponde con delle parole puntualissime, precisissime, che sintetizzano tutta la grandezza e tutta la bellezza dell'Eucarestia, perché dice così, voi musulmani siete stati molto bravi a capire la potenza di Dio, la grandezza di Dio, ma non siete riusciti a capire una cosa, l'amore di Dio. Ecco, l'Eucarestia si spiega unicamente con l'amore di Dio, cioè un Dio che arriva a farsi uomo e arriva a sacrificarsi per l'uomo e a farsi mangiare. Vedete anche questa sorta di contrapposizione, no? Nei paganesimi antichi, certo con proporzioni numeriche diverse, nei paganesimi antichi era molto diffuso il rito del sacrificio umano, addirittura nelle città precolombiane abbiamo delle cifre inaudite e dovevano essere fatte continuamente sacrifici umani perché si temeva che gli dèi, se non si riuscisse a soddisfare la sete di sangue degli dèi, gli dèi non avrebbero fatto poi sorgere il sole il giorno successivo. E si facevano le guerre tra le civiltà precolombiane unicamente per poter assoggettare dei popoli che poi dovevano pagare in tributi umani per questi continui sacrifici. Dunque Dio, il divino, aveva bisogno del sangue dell'uomo, doveva cibarsi del sangue dell'uomo. Il cristianissimo capovolge la prospettiva e con l'eucaristia che cosa abbiamo? Non Dio deve cibarsi del sangue dell'uomo, ma è l'uomo che deve cibarsi del sangue di Dio. Da qui tutta la grandezza, tutta la bellezza dell'eucaristia, per cui, cari pellegrini, non dobbiamo meravigliarci se persone che si rapportano intelligentemente con la rivelazione, capiscono la grandezza e la bellezza della verità cattolica, nel caso specifico la grandezza e la bellezza della Santissima Eucaristia. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.